cosa sta succedendo? ah non so, Guido ha fatto un paio di affermazioni è teso, è teso ragazzi perchè è teso? oh, c'è un po' di schiena al sole con, non va bene vediamoci la mano come stai Guido? c'è freddo l'ombra il crampo oh Guido tanti auguri hai chiesto la tua mia mi tocca 5 secondi che non ci siamo come? vai via vai via non ho sentito il porco mio per favore non ci fa così eh e cosa ci chiedo per favore Guido no però c'è anche la schiena al sole che cazzo vuoi? la torretta della minchia la torretta della minchia è per lì oddio non ci credo non ci credo vai 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 go 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 si dai che filmo dai che la sto filmando andate oddio rotola rotola che cazzo sta facendo rotolino 2 che cazzo mi hai fatto con l'acqua ghiacciata dove cazzo hai dato lo dolore andiamo a mangiare bisogna aspettare tastierino che è andato a prendere un boccadillo si è rimesso là la principessa si è sdraiata ancora